Oh, guardalo! Poi va addosso, sono venuto! Ah, ecco, arriva l'altro che lo spige! Rieccoci, ciao a tutti ragazzi, sono CyberDx e in questo nuovo video vi voglio dire che dobbiamo battere... Allora, qua dobbiamo vincere almeno 4 gare 3 piedi 3 miliari e fare 40.000 di danno, minchia! Allora, 4 gare, facciamo questa qua, dai! Sì, prendiamo e lanciamo questo evento Allora, ragazzi, voglio dire che in pratica la mia versione la versione speciale, non lo so perché forse perché è stata comprata al mercatino quindi, mamma mia, una Toyota Supra davanti a me e quindi non può essere diciamo, non può essere facciata aspettate, facciata in italiano sia di audio che di... Oh, che cazzo è macello! non c'è nemmeno l'N2O per questa macchina e quindi vi dicevo non può essere facciata in italiano, quindi ce la dobbiamo tenere in inglese con tanto di audio e video in inglese è scritta in inglese vabbè, non è quello il problema perché io mi posso pure spiegare però il problema è proprio proprio questo che vi devo spiegare passiamo un po' il volume che mi sta facendo male le orecchie voglio cercare di farcelo ahhh che pacello! sai che sta golf è una merda? no, ma che fai? no, dove fai? ah, sì questa città si chiama Rockport se non sbaglio ve l'ho già detto non mi ricordo uuuuh coglione vabbè, in pratica la grafica ho provato a migliorarla mettere tutto al massimo il problema è che sì, si vede però non mi piace non mi piace perché si vedono i dettagli troppo luminosi le macchine allora una macchina così in coloro opaco mi piace di più ho scansato qualcosa una macchina così in coloro opaco mi piace di più poi vabbè ho visto anche con action diciamo sinceramente mi lagga quando registro quando gioco no non succede niente così ho provato ho fatto 2-3 gare con tutti i dettagli al massimo però con action mi lagga un po' poi non mi piace anche perché c'ha tutti questi dettagli così si vedono troppo la macchina è troppo luminosa qua però è troppo buia perciò bisogna trovare un intermedio allora io vi dicevo nella puntata scorsa o due puntate fa non ricordo che si possono tranquillamente aggiungere le mod in questo gioco e se si può veramente no, sinceramente un pensierino per la mod ce lo stavo facendo aggiungiamo no mod in senso per esempio madonna oddio squasha tutto eh sì abbiamo quasi finito la gara e noi facciamo un errore proprio alla fine perché tanto quella dobbiamo riprovare scommetto no non la riproviamo ne facciamo un'altra pur di non rifarla e quindi tipo mod in senso mettiamo qualche texture sulla macchina oppure qualche modello 3D di per esempio la golf sistema del modello vecchio no che nel gioco non c'è lo tramite mod possiamo metterlo così no ce lo vorrei fare un pensierino tanto non è che cambia di potenza di veicolo perché io non vado a modificare quei parametri che non mi interessano però di estetica sarebbe bello poi dobbiamo cercare di superare il suo stronzo dai che la cazzo lanci mentre corri tu no siamo arrivati quasi alla fine non ce la faccio vaffanculo però e dai ma che palle dove ripare dai che ce la possiamo fare forse dai no ma che palle alla fine è proprio ma non c'è un tipo un flashback o qualcosa no si vai vaffanculo solo così sai vincere facciamo una petra miliare dai un inseguimento si minimo tre inflazioni almeno mille bonti si vai inseguimento dobbiamo distruggere tutto questo ragazzi dobbiamo distruggere tutto tu muori ok tu devi morire e non ho vinto nessun bounty i bounty sarebbero quelli che si mangiano che si comprono le macchinette no i bounty sarebbero oddio che cazzo ho fatto no si cosa non sto facendo niente si sarebbero i punti diciamo tutto i costi i costi dello stato il costo dello stato quindi devi cercare di distruggere il più possibile tutto però oh oh sbagliato non è andato a sbattere però se avvicinasse altra polizia cioè solo io così da solo mi rompo sinceramente mi rompo missione completata quale missione completata oddio dove cazzo vado oh che strada ho preso ecco che sono evaso ho vinto ah no eccolo là missione completata ecco un altro finalmente ci siamo vai distruggi tutto i costi dello stato devono aumentare così così aumentano le tasse ma ci interessa aumenta tutto per colpa mia uh quello mi ha scansato allora prendiamo tutto in pieno oh madonna ho fatto un macello dai che ce la possiamo far dai che ce la possiamo far non so cosa ha detto comunque dobbiamo ah di qua si vede a qualcuno no stavo andando dritto stavo andando oh là non posso andarci bloccate la strada dai che devo cercare di vincere ok buttiamo questo all'aria putiamo pure questo all'aria tanto non ci interessa uh un camion missione completata bounty ah siamo arrivati a mille bounty ora quell'altra pietra miliare potrei fare no non c'è non c'è scritto che posso fare si no non c'è scritto potrei tranquillamente fare qualcos'altro non lo faccio preferisco fuggire dalla polizia se riuscissi a fuggire dalla polizia oh madonna ninja che brutto ragazzi qua nella realtà si è rimorto eh si è rimorto no lo so c'è la polizia che mi sta leccalcando qui che ho combinato no 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 si si sono quasi vaso dalla polizia sono quasi no quel cazzo mi hanno raggiunto oh madonna mi sto trattando ecco qua eh si ma mi raggiungono lo stesso c'hanno un cazzo da fare questi che raggiungeli no 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 non si va da nessuna parte di qua andiamo di qua dove andiamo dove andiamo non lo so uh uh missione complicata oh non so che missione ma ce l'ho fatta distrutto tutto sto distruggendo tutto si se distruggo questa polizia può darsi che la missione riesco a evadere per bene cioè riesco a fuggire ah nana qua 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 c'è qualcosa da fare ora è la tiglia di unico si eh faccio esplodere sto benzinaio dai così è sicuro che finisce la missione si vai faccio esplodere tutto ora devo cercare di nascondermi non farmi vedere per un po' di tempo senza tirare l'attenzione devo cercare di nascondere dai che ci siamo quasi si ovvià oh per fuco non prendevo la polizia in fine ehm hey che whatsapp sono mia guarda razor ti sta osservando si non lo so ha detto qualcosa che riguarda razor razor sarebbe in pratica quello stronzo che mi ha sabotato mi ha sabotato mi ha sabotato la macchina lì solo le pietre miliardi l'ho vinte le gare devo vincere questo sprint non mi interessa facciamo questo sprint no l'abbiamo già fatto adesso facciamo questo dai vai 8 km di gara ma fa niente e il riso sarebbe quello stronzo con la mustang da ford mustang che mi ha sabotato la macchina un po' fa e in pratica ha preso con la macchina e è salito la blacklist come niente perché è uno stronzo di merda vorrei domandarmi a riprendere con la macchina un passo si è stato un po' difficile accelerare molto difficile oh dove cazzo mi spingite mi state spingendo mi state spingendo oh non è la gara di prima questa cosa è rimpinata è della gara di prima oh ma che cazzo va oh era la gara di prima questa oh si guarda questo stronzo con la fiat punto non ti dico perché lui c'è la no che cazzo ho combinato oddio non sto capendo niente raga non sto capendo niente non sto capendo niente ci mettiamo così per non capire ancora di più ma guardalo provo a finire con la cobalt non è la cobalt quella no la ford no la hold hold el monaro oh che cazzo oh madonna ma c'è da dove è uscito questo spawnano così a cazzo vai ma levati che non sei buono non sei giocare oh che cazzo freni quasi uno stronzo si ma cazzo porti la mano e frenano guardali cioè ti fanno veramente ti fanno girare i cogliuli che frenano così vai andiamo tutto in pieno va fanculo ho fatto cadere tutto all'inizio l'avevo scansato non me l'ho preso in pieno non mi interessa niente ecco che comincia a piovere che palle il garampio già impastidisce dopo un po' eh almeno stanno gli effetti meteorologici e ciò è molto bello tutto molto bello eh sì vabbè dai mi superano così ma la gara di prima mi sempre disse comunque pur che fosse mi stanno superando a cazzo però non sono un tipo che fa il free roaming ossia che gira per tutta la città a cazzo per esplorare gli eventi perché mi rompe mi scazza quindi preferisco farlo a piedi cioè preferisco fare aspetta aspetta perché è un carrello ah sì è la stessa strada di prima vabbè preferisco farlo andare direttamente fare evento diretto senza fare free roaming se no perdere troppo tempo e poi non ha senso non ha senso solo per fare inseguimenti no non mi interessa solo per fare semmai dal garage alla cosa al meccanico ho fatto un po' di free roaming così ecco un 69 sto perdendo ma frenano all'improvviso ma fate schifo fate perdere cacchino mi sono incazzato che poverino quello lì agli al dito mi sta facendo male non ce la faccio più e gira camfood sto leggendo lo sponsor camfood copyright c'è bisogno non so se i momi segnaleranno il video perché la macchina ce l'ha scritta a camfood oh dai che abbiamo quasi finito vena vaffanculo madonna eh sì 2000 credit vai ehi sono rog ah rog è quello là della macchina con la cobalt rossa quello che mi ha dato il garage in pratica sì facciamo un'altra gara vediamo fino a quando riusciamo a farle circuito facciamo sto sprint dai peccato se avesse vinto la gara iniziale a questo punto nel prossimo episodio sarei già battendo il secondo boss del gioco a quattro episodi già il secondo boss dai ehi perdere tempo partenza è partenza perfetta ragazzi cioè guarda che mostro che c'ha quello la mclaren perché c'è una mclaren quello non è giusto non è giusto quella mclaren è di livello molto superiore è del secondo della blacklist c'è di livello altissimo che cazzo ci fa con l'angola mclaren perché ho preso il livello di parcheggio ah no ne ho preso un parcheggio beh che siamo già 18% completato dai cerchiamo di farcela subito questa gara non perdiamo tempo perché dobbiamo finire il video entro 20 minuti anzi entro 16 minuti che l'altra volta il secondo episodio è andato a puttane dove cazzo vai dai che c'è la buffare dai oh oh guardalo prova addosso sono invenuto ma ecco arriva l'altro che lo spinge ah qua siamo sotto il mio garage stiamo passando ciao mio garage bello ora si gira madonna drift deve sbattere ragazzi guardate questo oh guarda quello come sbatte ah se non c'è il 50% della gara cioè finisce subito sta gara 55 56 57 ho voluto fare questa stronzata e ho sbagliato ho sbagliato me ne sono resa conto resa conto non resa conto che cazzo ah andato sta e frenano e frenano ma non per superarmi e frenano vaffanculo ok fate bene si però ok fino a un certo punto oddio ho sentito la polizia a parlare basta che non parti un inseguimento a cazzo adesso sicuramente le gare a circuito sinceramente le gare a circuito non mi affascino di tanto soprattutto in questo gioco mi piacciono più questi stringo oh guarda quello stronzio sto tutto addosso però ecco la polizia lo sapevo ecco se mi va a beccare la polizia mi tocca fare tutto l'inseguimento anche palle no non mi ha beccato non è a me eh se l'è presa con loro meno male oh l'hanno distrutta addirittura non se l'è presa con me meno male questo non ho detto no mo se la deve prendere con me boom no no mo che fai ah no non se l'è presa con me no no spero di no stai buttiamo il ciambellino e giù no non l'ho preso in piedi il ciambellino a fa' cura però almeno ho vinto la gara eh si duemila crediti 207 km orari hey ehm di 5 a 0 la tua mappa si hai ragione si 14 minuti di video siamo arrivati no ah devo ancora fare i bounty perciò perciò dai facciamo facciamo l'ultima gara così ehm no facciamo questo nei gara a casello quindi significa che distanza 1-8-2000 in pratica è una prova a tempo ecco devo cercare di arrivare entro il tempo limite ogni sono tanti checkpoint devo cercare di arrivarci entro il tempo limite si dai 3 2 1 via uh partenza perfetta dai che ce la vuoi fare ah in pratica è tutta l'autostrada prima che ho imboccato l'autostrada cosa cazzo ecco ho preso la strada più lunga ma fa niente ma che bravo buttiamoci di qua no no ci buttiamo di qua non si sa mai oh ma dove cazzo vai no 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 ti prego non sbagliare infatti abbiamo il tempo 42 41 40 in alto a sinistra destra destra si non so ancora distinguere la destra dalla sinistra dai che ce la possiamo fare dai se provate a 15 minuti se si fa a bloccare il video dopo 16 minuti giuro che mi incazzo mi incazzo brutto perché non si deve bloccare pure al terzo quarto quattro episodio quanto quattro è terzo episodio no ma non ce la facciamo altri episodi e poi tra due episodi cioè non questo nel prossimo ma nel prossimo ancora batteremo il boss oh che cazzo laggata mi sta facendo che mi sta facendo stare laggato beh il prossimo ancora batteremo il boss che sarà Taz il 14 il secondo boss del gioco numero 14 della backlist lo batteremo sicuro perciò già lo spoglierà quello lo batteremo dai che ce la posso fare 34 tempo di bonus dai c'ho ancora un minuto ce la posso fare ha voglia no 73% ah quasi finito cioè in pratica mi sono fatto tutta la città mi sono fatto come niente dai 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 completamento 84% 85 86 82 81 oddio vedo il completamento abbassarsi ok ora siamo 90% no era capito tu ce l'ha scritto tantissimo gira gira dai che ce la puoi fare e vince vai winner the winner is questo qui dai che ce la possiamo fare dai dai frenata facciamo una prossima gara facciamo l'ultima gara no 4 gare dobbiamo fare perciò perciò facciamo questa qua questa eliminatura facciamo un circuito dai la vola spacca facciamo questo qua dai no l'eliminatore non mi piace madonna si può sbagliare prova all'ultimo cioè devi essere eliminato un cazzo ma non c'è il nostro perché non c'è un N2 perché mi ha fatto in retromarcia perché mi ha fatto l'effetto se non c'è un N2 dai che ce la posso fare dai dai che ce la posso fare secondo me secondo me uuu stronzo guarda quello là la macchina verde è proprio fio no di qua è una scorciatuia si uuu che cazzo sono andato a sbattere lo sapevo cazzo di circuiti si vai che sgommata la madonna mi sta cominciando a laggare qualche programma dopo averlo se fanno questa laggata del cazzo chi è sto qua con la merced ah no no è sempre la all del monaco questa invece è la tutta sopra no è la la mitsubishi eclips invece avanti abbiamo una tutta sopra verde che spacca i tuoi e mettiamoci scia che ce la possiamo fare di scia ragazzi di scia vai 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 cioè ragazzi sono un monso sono troppo bravo sono un pro eh si va quando dico sono un pro vado sempre a sbagliare perché può capitare dai può capitare un errore ci sta devo cercare di far chi è questo no non cominciano a piovere che palle quando si mette a piovere una palla no che tutto diventa più brutto non si capisce niente piove le gocce sullo schermo non si può disabilitare la pioggia no no mi sta sul cazzo veramente dai che ce la possiamo fare dai wii ce l'ho fatta diciamo di qua di qua invece si va oi la scorciatuia la scorciatuia grande ce l'abbiamo fatta abbiamo superato tutti qua abbiamo un delpo di drift diciamo di qua grande no no sono un cazzo di mostro cioè in senso sei bravo cioè mettendo la macchina ah ma quando io dovrò battere il boss dovrò andare a modificare la macchina no non potete dirmi questo cioè dovrò modificare la macchina così dai drift wuuu menchia che cazzo ho fatto che si lego tu stai scritto sulla macchina così gira bravo bravo ce la puoi fare sei il migliore sei il migliore giuri qua ui ui grande qua si fa la curva qua ci si gira di là di là si gira di qua ma che cazzo sto dicendo no non lo so quanti minuti di video sono perché ho dovuto stoppare il video per vedere se dopo 16 minuti mi continuasse quindi siamo più di 16 minuti dai che ce la puoi fare questa è l'ultima gara si si i bounty dobbiamo ancora vincere i bounty ricordiamoci che i bounty si vincono non si comprano ma come si cambia musica vuole cambiare musica come si cambia ritmo ragazzi ecco questa macchina ce la fa ci mette simpatia ce la possiamo fare uuuh che bello oh ragazzi voi non sapreste mai fare una gara eh prendo la strada lunga perché non ce l'ho lunga no perché mi piace lunga no perché 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 si è capitato dai volevo cambiare un po' madonna perché la volevo lunga la volevo lunga no oddio dove vai no 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 vittoria ti ho fatto il culo coglione sei un coglione ecco togli da sopra che mi stai guardando lì in fondo baggage che vittoria ok per questo video per questo video è tutto ragazzi ricordate di lasciare un'iscrizione e torniamo alla base torniamo alla base perché noi possiamo tornare tornare la base e ciao a tutti ragazzi ciao 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 ciao